Dopo le parole di Papa Francesco, in parallelo all'inchiesta avviata dal Vaticano che sta preparando un dossier, la Procura della Repubblica Cilena ha disposto un censimento federale. Riguarda le denunce di abuso nei confronti di minori che coinvolgono membri della Chiesa, sollecitando la raccolta di tutte le informazioni a disposizione. Obiettivo riunire i precedenti esistenti anche per poter soddisfare una richiesta di Roma. Intanto un alto esponente del Vaticano è stato inviato in Cile per raccogliere le prove. Bergoglio, qualche settimana fa, aveva inviato una lettera alla Chiesa Cilena per chiedere scuse e perdono per gli scandali sessuali di una parte del clero. Intanto, di fronte alle accuse, i 34 religiosi cileni non hanno potuto far altro che rassegnare le dimissioni dai loro incarichi diocesani nelle mani del pontefice.